Musica Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e oggi torniamo a trattare la Regia Marina e lo facciamo con lei, la nave più potente del compartimento italiano all'interno di World of Warships, Giulio Cesare quando dico più potente intendo dire ragazzi le sue performance tier per tier, ovvero la capacità di imprimere la propria forza all'interno del proprio tier Giulio Cesare lo fa in maniera straordinaria, è a mani bassissime la miglior corazzata tier 5 ed è anche una delle tre navi più potenti di questo tier molto probabilmente insieme al Gremi Ashi sovietico e al Kamikaze giapponese siamo qui praticamente su Falkline, una battaglia classica del tier 5 dove siamo top tier Langley Osho contro Langley Hermes, doppie porterie per lato quindi potrebbe essere un problema per Giulio Cesare perché come tutte le quarzette del tier 5, magari Texas a parte, l'anti-era non è certamente il loro punto di forza anche se la Texas è stata poi nerfata anch'essa a livello anti-aereo e nei tempi passati era un vero proprio incubo per le porte aerei quindi diciamo che il compartimento aereo è importante e se due porteri decidessero di focusarmi sarebbero dei problemi o almeno saranno dei problemi perché questa cosa succederà ma noi venderemo cara la pelle il resto della formazione come potete vedere c'è un numero esorbitante in acqua di incrociatori e corazzate solo un Mutsuki contro un Nicolas americano su prendiamo posizione verso destra posizione che non mi piace perché preferisco la zona 1, 2, 3 in colonna verticale ma il matchmaking ci ha fatto spawnare da questo lato e noi non siamo quel tipo di giocatori che prende, cambia e rovescia completamente il campo soprattutto quando gioco una corazzata o una nave estremamente lenta come questa anche se non si dovrebbe forse definire Giulio Cesare molto lenta se la confrontiamo con altre corazzate del tier 5 che sono sicuramente più pachidermiche di lei la Koenig ci taglia la strada per qualche assurdo motivo e quindi decidiamo di virare però in questo modo ci dà un piccolo vantaggio perché convogliamo il nostro forze anti-aere e soprattutto i razzi dell'Ermes e li piglia lei il compartitivo HP di questa nave è 45.500 con un'importante riduzione di torpedo sullo scafo del 30% i soldi sicuramente Giulio Cesare li sa imbarcare bene 28 nodi e mezzo a bordo e velocità massima con la bandierina uno straordinario timone che risponde in soli 13 secondi ma con soli 640 metri di raggio virata è sicuramente una delle corazzate più agili e veloci del suo tier il compartimento armatura è straordinario con una cintura, una doppia cintura centrale che da 220 passa a 250 mm che la rende veramente dura come l'Adamandio le due porterie intanto cominciano a scambiarsi un po' le prime scaramucce e le porterie nemiche non sembrano molto esperte sia la Langley che la Hermes perché decidono di attaccare il compartimento praticamente più compatto ovvero quel gigantesco gruppo navale che naviga adesso in D7 e D8 che massimizzano l'anti-aere e quindi riducono i razzi nemici in polvere quando sul lato sinistro diciamo che le due formazioni col Furutaka oltre che il Mutsuki erano certamente molto più facili da attaccare per quanto riguarda il compartimento aereo nemico Giulio Cesare poi ha una capacità di mimetismo di 11,9 km massimo spotting via acqua e 6,8 km via aria come potete vedere noi non siamo assolutamente timidi questo perché è impossibile giocare Giulio Cesare al tier 5 essere top tier e giocare diciamo nelle retrovie questa è una nave cattiva è un vero e proprio battecip incursore a cui piace incuniarsi nelle formazioni nemiche anche perché come ho detto prima la sua agilità e i suoi cannoni straordinari permetteranno di fare a brandelli le squadre nemiche noi possiamo comunque contare sulla Koniginaito da questa parte e nessun incrociatore è in grado di fermarci tantomeno uno Yubari e un Kuma come stanno facendo i due incrociatori giapponesi che decidono di affrontare noi e i cannoni della battleship tedesca guardate un po' che fine ha fatto praticamente lo Yubari da full vita a 964 in pochissimi secondi noi ce ne freghiamo altamente di dare o no al Brosside a un semplice incrociatore mentre dall'altra parte il Mutsuki ha eliminato l'unico destroyer nemico noi decidiamo di attaccare pesantemente il Kuma questo perché la Yubari viene facilmente affondata in questo istante dai razzi della Osho guardate adesso il Kuma Kuma che a un certo punto deciderà di mettersi in posizione d'attacco con appunto la prua rivelta verso di noi ma noi possiamo overmacciare la sua punta e boom! Devasting Strike, doppia cittadella su due e tanti saluti al Kuma neanche 5 minuti di partita già il primo Devasting Strike e soprattutto 4 navi affondate a 0 non stupitevi di nulla perché in questa partita ragazzi sarà il Devasto andremo veramente di punta e si potrebbe quasi definire la carica della Giulio Cesare perché guardate adesso praticamente andremo a convogliarci in una zona se non sbaglio di E7, E8 e poi attaccheremo tutti insieme la base nemica con una formazione che sembrerebbe quasi organizzata ma invece era totalmente casuale in perfetto stile Randall Battle di World of Warships la Mioji nemica ha tentato in qualche modo di impegnarci ma ovviamente non ha la minima capacità offensiva né difensiva di riuscire a competere con la Giulio Cesare la Mioji ha dei canoni che sparano molto lontano ma quel giocatore non sembra minimamente saper utilizzare la sonave soprattutto ha uno scafo stock e la Mioji ha un'armatura talmente di carta che per i 320 mm della battleship italiana è uno scherzo praticamente scusate i 320 mm della battleship italiana è uno scherzo praticamente andare a bersaglio i suoi canoni principali infatti sono 10 canoni da 320 con 30 secondi di ricarica 180 gradi in 31 secondi e mezzo con Expert Marksman a bordo che vi consiglio di installare 211 metri di massima dispersione a 16,4 km 35% di fire chance con un danno massimale a cae di 4800 e 9700 di alfa damage in AP la cosa impressionante dei suoi cannoni oltre a una particolare buona precisione è il fatto che questa nave abbia dei proiettili che viaggiano 830 metri al secondo sono praticamente i classici proiettili italo-tedeschi che montano tutte le quadratate italiane e tedesche e diciamo che sono proiettili talmente veloci che è uno scherzo andare a bersaglio sulle navi avversarie e farli veramente molto molto male come vi ho anticipato prima guardate ora praticamente ci raggruppiamo quasi per caso a parte la coni che decide di navigare per i merluzzi lungo la linea esterna e poi attaccheremo in qualche modo tutti insieme la base nemica e considerando che abbiamo già 4 navi di vantaggio e 2 del nemico sono portaerei praticamente ci ritroveremo in qualcosa come un 6 contro 4 un 6 contro 3 e il nemico non è minimamente minimamente organizzato e verrà completamente investito a partire da adesso come avete visto c'è un po' di organizzazione comunque guardate il giocatore Fire303 in chat accetta il push nel senso anche lui accetta di pushare inizia adesso la carica e attenzione perché sarà una carica devastante e una dopo l'altro le navi nemiche verranno asfaltate la prima che si fa sotto è la Mioji come ho detto prima non ha l'armatura per competere con i nostri cannoni doppia cittadella e giù i primi danni è praticamente già il nostro amico Nikolakis 1-3 1-3 forse un giocatore greco è già praticamente i minimi storici cominceranno ad arrivare ai vari attacchi porteri ma non potranno minimamente impensierire la nostra nave anche perché sono porteri pur sempre tier 4 non tier 6 e quindi diciamo che la Giulio Cesare ha vita facile nonostante la sua antiaerea non è proprio il massimo si tratta di batterie da 20-37-100 mm capaci di sparare fino a 4 km e 600 metri con un 141 di danno continuativo e un danno sulle esplosioni di 1029 il Konisberg annurla l'Aerion 2 che giocava quasi come se fosse un cruiser americano dietro le isole e noi possiamo tornare a martellare il povero Nikolakis che continua stupidamente a darci il fianco questa volta l'RNG non ci aiuta tre penetrazioni niente cittadella ma Nikolakis continua nella sua rotta continua a volere in qualche modo invitarci ad ammazzarlo siamo già arrivati a 72 mila danni e il nostro push continua anche se Arkansas Beta Konisberg e i Phoenix sono un po' nelle retrovie la Congo ha deciso di rientrare in base per forse fare merenda per questioni a noi sconosciute e quindi continuiamo praticamente quasi in totale isolamento arriveranno la Leng e ritornerà anche la Hermes ma oggettivamente siamo full vita o quasi i soluri della porta aerei americana non possono certamente impensierirci anche perché tra poco la Mioji andrà sul fondo dell'oceano eccola qua questa distanza non può più scapparci e via affondata la Mioji gran bel drop della Leng che come ho detto prima non aveva la minima diciamo somiglianza con un giocatore di porteri esperto un giocatore esperto infatti non sa droppare i siluranti e per la Giulio ci userà uno scherzo a superarli arriveranno poi anche i razzi della Hermes ma chi se ne frega guardate un po' doppia formazione austro-ungarica della Virbus Unis perché nel gioco sono paneuropee lì ma sono praticamente austro-ungarica resalente alla prima guerra mondiale e guardate un po' subito diamo il saluto alla Virbus Unitis che è schifosa a livello antiero è schifosissima a livello difensivo l'ho testata quindi so di cosa parlo ma vi sicuro che a livello offensivo quelle quattro torri possono fare molto molto male torna nuovamente la Langley con i suoi siluranti dilettanti e noi non facciamo la minima virata e continuiamo a navigare verso la doppia Virbus Unitis che a questo punto decideranno di ingaggiarci in coppia perché non possono oggettivamente fare altro preferiamo sparare su Nordivinsky perché sta virando e quindi ci darebbe il fianco mentre il primo giocatore Beardman sempre dello stesso clan tra l'altro è quasi di punta e quindi abbiamo preferito tirare prima sul suo alleato guardate un po' ora lui deciderà di darci quasi completamente il fianco e questo ci darà un enorme vantaggio rientra anche il Genova pessimo incrociatore italiano il peggioro incrociatore italiano mai costruito dalla Wargaming mentre attacchiamo ancora le forze austro-ungheresi qui sicuramente Razzler avrà apprezzato il cenno storico quasi cancellando Beardman partiamo un attimo a livello storico da Giulio Cesare ragazzi nave realmente esistita classe conte di Cavour era la terza nave dopo appunto Cavour e Leonardo da Vinci costruita dall'ansaldo presso i cantieri navari di Sestre Levante avvarata nel 1911 ha partecipato a entrambe le guerre anche se nella prima è entrata in servizio quando la guerra ormai era quasi a conclusione ha fatto un po' di diciamo navigazione nel Marioni ma poi non è mai stata realmente impegnata in seguito poi è stata diciamo messa in disarmo alla Spezia poi è stata riarmata completamente rinnovata a metà degli anni 30 e poi ha partecipato ad alcune importanti battaglie durante la seconda guerra mondiale nel Mediterraneo uno su tutte la battaglia di Punta Stilo dove tra l'altro è stata colpita a 23 chilometri dalla Warspite uscendone comunque in denne quel colpo è anche un record assoluto per quanto riguarda il colpo di una Batashi contro un'altra Batashi durante la seconda guerra mondiale a bordo della Warspite c'era nient'altro che l'ammiraglio Cunningham il più importante ufficiale della marina della Royal Navy ha completamente sbagliato nuovamente il drop di Torpedo ma noi andiamo dritti per dritti solo per fargli fare un po' di danno e poi concluderemo la partita al meglio dopo questa estradinaria carica per la nostra quarta kill la concluderemo in questo modo Devasting Strike sulla Hermes colpo che arriverà adesso la vendetta della Giulio Cesare praticamente è servita Devasting Strike e questo ragazzi è praticamente lo screen della partita doppio Devasting Strike High Comfort Rate High Caliber c'erano quasi 181.000 danni easy 4 kill che se un paio ce le hanno ninjate 6 cittadelle 9 eri abbattuti questa nave quando carica in questo modo ed è top tier a meno che non ci sia un kamikaze che lancia continuamente il suo torpedo contro di voi ragazzi nel combattimento corpo a corpo è devastante è la partnership più potente del tier 5 è il vero nostro orgoglio all'interno di World of Warship la Giulio Cesare è una nave straordinaria questo è lo screen guardate un po' per farvi capire quanto è potente eravamo top tier guardate un po' la distanza tra il primo e il secondo in classifica nel mio lato diciamo di tabellone abbiamo fatto praticamente quasi il doppio dei punti base del secondo in classifica questo faràvi capire quanto è potente nelle mani di un giocatore esperto questa nave è il tier 5 è un vero e proprio Silk Club ci sono dei giocatori molto furbi non per fare dissing che utilizzano la Giulio Cesare per gonfiarsi il win rate questo perché non riescono ad essere abbastanza incisivi al tier 8 e al tier 10 giocano i tier 5 essenzialmente per farsi più grossi di quello che sono ok che è divertente farlo però c'è anche chi abusa di questo essenzialmente perché sono degli stat pader che cerchino di gonfiarsi le statistiche e il PR pratica un po' ridicola patitica secondo me io infatti ho giocato 3-4 partite con questa nave oggettivamente è troppo potente non mi diverto nemmeno a giocarla però era giusto portarla dato che il nostro canale comunque tratta anche la reggia marina era giusto dare comunque spazio la Giulio Cesare almeno in un video per quanto riguarda invece le skill e i moduli consigliati sono i seguenti io consiglio il modulo del carbone che vi aumenta la durata del vostro damage control questo perché potrebbero arrivare serie diverse di torpedo o di incendi e quindi avere un damage control secondo me è molto utile questo modulo ovviamente del 40% la durata del vostro damage control che sta sulle battleship è molto utile per il resto diminuzione delle possibilità di fluidi di incendi a bordo e ovviamente la dispersione migliorata per quanto riguarda le skill il classico setup battleship tanking questo perché mi piace giocare in maniera aggressiva di punta come la maggior parte delle corazzate e quindi mi piace andare sempre addosso agli avversari come avrete visto in questa partita e con queste setup sono molto più resistente al riparo prima o comunque un consumabile in più a bordo che sono comunque semplici solo damage contro le reper party ovviamente l'expermars per far girare le torri in 30 secondi adrenaline rush che lavora ogni volta che perdete punti vita il consignment secondo me è indispensabile sulle corazzate e il fire prevention va a diminuire di tantissimo le possibilità che subiate degli incendi a bordo questa ragazzi era la giulio cesare la nave migliore italiana nel gioco una nave straordinaria a me piace un sacco però ragazzi giocatela con giudizio quei pochi ancora che ce l'hanno perché ovviamente non è più in vendita è una nave super rara bisogna avere un gran culo per trovarla nei container però è una nave straordinaria che ogni volta che la si gioca diciamo che ci si sente quasi orgogliosi di essere italiani perché è veramente la nave italiana più performante e con lei in acqua il divertimento ragazzi è assicurato quindi chi ce l'ha la giochi e pazienza anche se OP è un OP diciamo divertente dai per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se volete lasciate un like giusto perché è una nave della regia marina noi ci risentiamo la prossima volta con un video riguardante il Tullain incrociatore pesante tier 8 sovietico in test ciao comandanti grazie a tutti Grazie.